Allicata nella sala della Biblioteca Comunale Luigi Vitali è stato presentato il libro Social Gossip dalla chiacchiera di Cortile alla web Pettegolezzo, Aracne Editore, di Antonia Cava e Francesco Pira, entrambi docenti all'Università di Messina. Al dibattito sono intervenuti il poeta Lorenzo Peritorre, la dirigente scolastico Agata Guelli, lo storico Fabio Lobono e lo psicoterapeuta Nuccio Peritore. Ascoltiamo oggi una parte dell'intervento di Antonia Cava. Abbiamo cercato proprio di, ricordando anche alcuni sociologi importanti come Simmel, di comprendere come la chiacchiera può essere qualcosa di molto giocoso e può creare una piacevole socievolezza. Proprio perché noi definiamo il Pettegolezzo una microarchitettura narrativa della vita quotidiana e una sorta di arte della narrazione. Altro passaggio chiave del libro, non c'è Pettegolezzo se non c'è svelamento di segretezza. Perché ci sia un Pettegolezzo e perché queste chiacchiere, queste parole, divengano fra stuoni rumorosi ed interessanti, è necessario violare le vite private degli altri. E quanto più questo smascheramento va a svelare in retroscena, tanto maggiore è l'eco di questo chiacchiericcio e quindi il Pettegolezzo prende forza. Altro punto chiave, importantissimo, e questa è una parte a cui mi sono molto dedicata, io sono un'esperta di televisione, molte delle mie ricerche riguardano proprio quello che è il ruolo della televisione nella costruzione del nostro immaginario. Credo che ciascuno di noi da telespettatore ha ormai intuito quanto ormai il Pettegolezzo sia quasi diventato un genere televisivo. Ormai siamo di fronte a talk show, noi parliamo proprio di talkizzazione dello spazio televisivo, programmi contenitori, fatti essenzialmente di parola, fatti di interpretazioni e di interpretazioni. E tutto questo si traduce per quel che concerne i divi del piccolo schermo anche in una strategia per rafforzare la propria reputazione. Pensate a Belen Rodriguez, no? Quanto ha fatto del Pettegolezzo un po' di strategia della sua carriera. Perché diventa così forte il Pettegolezzo? È importante nell'ambito della logica televisiva. Perché i telespettatori sentono in qualche modo un senso di vicinanza rispetto a dei divi prima lontani che invece nel momento in cui a noi è consentito di stare a scoprire la vita quotidiana di questi piccoli divi, in qualche modo li sentiamo parte della nostra vita quotidiana. Altro impero del gossip che riguarda anche la televisione è il racconto della cronaca nera. Sempre di più, cito l'esempio di cui parliamo nel libro, pensate al caso di Avetrana, immagino che ciascuno di voi un po' lo conosce, quanto ormai il Pettegolezzo diventa anche una strategia attraverso cui narrare storie drammatiche, violente, di morte. Ma pensate anche a tanti casi di femminicidi che ormai vengono raccontati sempre più anche attraverso questa forma di guayerismo verbale. Ultimo passaggio, e su questo passo la parola a Francesco proprio perché, come ho promesso, sarò breve in questo primo giro. Anche la politica, nel momento in cui si è spettacolarizzata, si apre al gossip. Ormai i grandi leader politici sono leader di cui conosciamo tutto, non ci interessano più i loro grandi pensieri, le loro ideologie, ciò in cui credono, ma ci interessa anche profondamente la costruzione della loro immagine che molto spesso è fatta di retroscena che vengono svelati. e che anche in questo caso rendono i pubblici, che si traducono in questo caso in futuri elettori, fidelizzati a delle vite private dei vari candidati politici. Dimmi Grazie.